Salve, miei cari amici e miei cari fratelli, facciamo un altro video, perché è un video molto importante, perché fratelli cari le cose, gli eventi che stanno avvenendo sono veramente tremendi, fratelli cari, e noi altri viviamo in una sorta di ignoranza collettiva, perché fratelli cari ci siamo sempre disinteressati e abbiamo confidato nei governanti che ci hanno venduti ai rettiliani, fratelli cari, ai vari draghi, non a caso il presidente dell'ABC si chiama Draghi. Io vorrei parlare di qualcosa che non so quanti di voi conoscano, fratelli cari, il cosiddetto tip, non lo so quanti ne hanno sentito parlare, è un trattato, un accordo che è stato fatto, è stato fatto tra tutti gli stati partecipanti alla BCE e vorrei parlare del Target 2, qualcosa che io disconoscevo, un fratello, il Signore, gli ha messo nel cuore perché lo Spirito Santo parla, fratelli cari, e a questo caro fratello, siccome è anche lui un esperto di situazioni finanziarie, mi ha mandato questo link che voglio condividere e leggere insieme a voi, potete anche vedere l'indirizzo sopra. Perciò Target 2 è il sistema di gestione, dunque, fratelli cari, cerchiamo di capire un sistema di gestione e compensazione dei pagamenti in euro utilizzato dalle banche nazionali e commerciali. Perciò, fratelli cari, questo sistema permette le transazioni in euro. Ora dovremmo comprendere come funzionano. Al sistema, leggiamo, aderiscono i paesi dell'Unione Europea ed è coordinato dalla BCE, dalla Banca Centrale Europea. Fratelli cari, capisco che è un po' difficile seguire tutti questi ragionamenti, ma credo che dobbiamo capire di che morte sta morendo l'economia, l'economia europea e cosa ci aspetta, fratelli cari? Tramite questo cervellone elettronico condiviso fra le banche centrali di ciascun paese e circa 1700 banche private, cioè parliamo ogni paese alla Banca Centrale, nel caso nostro è la Banca d'Italia e poi ci sono 1700 banche private che appartengono a tutti i paesi dell'Unione Europea. Vengono elaborati in tempo reale i pagamenti in euro tra banche dell'UE. Praticamente in tempo reale, premendo su una tastiera, si fanno gli accrediti tra una banca e l'altra. Il Target 2 è stato introdotto nel novembre del 2007, a ridosso della crisi economica, perché questo è una sorta di cervellone di rete neurale terrestre ancora, che praticamente funziona agli algoritmi che hanno messo poi alla fine, se così possiamo dire, si gestisce da sola. Perciò dobbiamo capire ora come funziona tutto questo, fratelli cari? Ponete a mente perché questo interessa tutta l'economia dell'Europa e in modo particolare l'Italia. Tutto sta collassando. Target 2 è stato introdotto nel novembre del 2007, a ridosso della crisi economica, andando a sostituire il sistema Target, che era integrato ad altre stanze di compensazione cosiddette clearing house, cioè praticamente erano tipo dei servatoi che dovevano compensare e travasare il liquido, cioè gli euro l'una con l'altra. Tutto questo dovrebbe garantire l'equilibrio tra le bilance di pagamento dei paesi dell'UE. Scopriamo qualcosa adesso di così diabolico, astuto che io, se devo essere sincero, non avrei neanche immaginato, ma è la realtà questa. Perciò, l'introduzione di quantitativi easing. Da allora i paesi più fragili, come Italia, Spagna, Portogallo e Grecia, hanno aumentato il loro debito nei confronti di quelli più soliti, come la Germania, l'Olanda, il Lusselburgo, cioè debito tra Italia e Germania, Olanda e altri paesi più soliti. Target 2. Vediamo un po' come funziona questo ingranaggio infernale. Cerchiamo di capire. il meccanismo si attiva, ad esempio, quando un italiano acquista un prodotto venduto, per esempio, da una società tedesca. Ecco, ho comprato il microfono con il quale sto parlando, ed è di produzione tedesca, praticamente ora scopro che ho collaborato per far aumentare il debito pubblico. Vedete un pochino quanto è tremenda questa cosa, fratelli cari. leggete, cercate di seguire. Poniamo che costi 1000 euro. La banca commerciale dell'italiano elimita dal conto corrente del suo cliente la somma richiesta. La banca che ho io, presso la quale ho il conto corrente, mi toglie 1000 euro. e fin qui è normale. Ed effettuo un bonifico presso la banca commerciale dell'azienda tedesca. Sentite attentamente, perciò la mia banca fa questo bonifico alla banca commerciale dell'azienda tedesca, che potrebbe essere, che so, la Bundesbank, la pincopallino banca tedesca. Ecco, non la Bundesbank perché quella è quella nazionale. Perciò avviene questa transazione tra due banche private, tra due banche commerciali. Cosa avviene? Qui poi c'è veramente veramente l'inghippo. L'operazione che coinvolge banche di paesi diversi coinvolge il target 2. Perciò vediamo nello specifico cosa succede. Coinvolge il target 2 e quindi anche la BCE e le due banche centrali nazionali. In questo caso la Banca d'Italia e la Bundesbank. Ma che c'entrano la Banca d'Italia, la Bundesbank e la BCE se la transazione è avvenuta tra due banche commerciali? E qui è l'inghippo e si nasconde l'arcano, la truffa, perché questa è una truffa ben architettata. Cosa succede? La mia banca ha versato 1000 euro alla banca tedesca. La Banca nazionale funziona infatti come prestatore di denaro per le banche commerciali. Sentite eh? Perciò la Banca nazionale è quella che si fa da mediatrice e presta pure il denaro alle banche commerciali. Come l'Unicredit, Impresa San Paolo, Unibanca. Proseguendo col nostro esempio, la banca privata presso cui ha il conto l'italiano, per esempio io, si troverà con un saldo negativo di 1000 euro nei confronti della Banca d'Italia. Ascoltate eh! Io mi sono tolto dal conto corrente 1000 euro e praticamente mi ritrovo io con 1000 euro di debito verso la Banca d'Italia. Quei 1000 euro che io mi hanno tolto dal mio conto corrente. Quando il bonifico entra in disponibilità della banca privata tedesca, questa si troverà in saldo attivo nei confronti della Bundesbank. Perciò succede che praticamente io sono debitore alla banca italiana e la banca tedesca si trova in attivo, la banca privata tedesca si trova in attivo nei confronti della Bundesbank. e a catena la banca d'Italia avrà un saldo negativo, sentite, la banca d'Italia avrà un saldo negativo di 1000 euro nel sistema Target 2, ossia la BCE. Perciò la banca d'Italia si sta trovando ora, nonostante io ho dato i miei soldi, ad avere un saldo negativo di 1000 euro nei confronti della Target 2, ossia la BCE, che la BCE non ci ha messo niente. Però l'Italia si ritrova in saldo negativo, ossia la BCE e la Bundesbank un attivo per la stessa somma. Perciò nel fare questo, la banca d'Italia si trova in negativo di 1000 euro verso la Bundesbank tedesca, che praticamente la banca privata pretende questi 1000 euro che praticamente io ho versato e ho comprato la merce. Non so se è chiaro il discorso. A catena la banca d'Italia avrà un saldo negativo di 1000 euro nei confronti del sistema Target 2. La BCE, che è al culmine delle due banche centrali e nazionali, la BCE dice, tu Italia, banca d'Italia, mi devi dare 1000 euro. E invece la Bundesbank si ritrova in attivo per la stessa somma. Così, il nostro debito privato, attenzione, si trasforma in un debito tra banche centrali e nazionali. Cioè, io ho comprato da te, produttore tedesco, e mi ritrovo che la mia banca nazionale, in questo caso la Banca d'Italia, ha un debito di 1000 euro verso di te. E contorto tutto questo. Così il nostro debito privato si trasforma in un debito tra banche centrali e nazionali. E' un passivo della bilancia dei pagamenti italiani nei confronti di quella tedesca. Perciò, la Banca nazionale italiana si trova in passivo di 1000 euro verso la banca tedesca. E' tutto un gioco diabolico questo. Ora, cerchiamo di capire qua il TPI, leggi TPI senza pubblicità. Ecco, praticamente, che cos'è sto TPI? Andiamo avanti. Per compensare lo squilibrio è necessario che l'Italia venda un bene di pari valore alla Germania. Perciò l'Italia deve cedere qualcosa di valore alla Germania per compensare questo. E utilizzi sul plus degli acquisti titoli di Stato italiano. Perciò la Germania si compra dei titoli di Stato gratuitamente, diciamo, con i 1000 euro che ho pagato io. Oppure ancora che la BCE eroghi liquidità all'Italia. Perciò che gli dia soldi all'Italia che poi sono con gli interessi per fare aumentare poi il debito pubblico. Tutto un discorso tra i privati. La Germania vende una cacciotta, una birra. Io mi compro la birra e alla fine indebito lo Stato italiano. Vi state rendendo conto come il debito pubblico è il nulla che ci ha strozzati? Quantitativi easing. L'Italia ha accumulato una passività nei confronti del sistema Target 2 di circa 490 miliardi di euro. Con questo giochetto lo squilibrio è dovuto non tanto ai flussi commerciali ma alle fughe di capitali aumentate dopo la crisi del 2007-2008. Tutto sta crollando. Siamo sull'orlo del baratro. Ma voi siete interessati a sapere la formazione della vostra squadra di calcio. Andiamo un po' avanti perché, fratelli cari, questa è una realtà. L'aumento vertiginoso del saldo negativo è stato innescato qualche anno dopo con l'introduzione del Quantitativi Easing QE, il programma di acquisto di titoli di Stato avviato nel 2015 per stimolare l'economia in crisi. Guardate che astuzia! Distruggono l'economia e poi ti prestano i soldi affinché il debito pubblico sale sempre di più. Lo scopo del Quantitativi Easing è quello di contrastare l'inflazione eccessivamente bassa provocata principalmente dal calo dei consumi. Per sostenere l'inflazione la BCE negli ultimi tre anni ha immesso moneta sul mercato sapete, ce l'avete presente Totò e Beppino De Filippo che costruiscono, che stampano i soldi? Così è la BCE. Anzi, non hanno neanche bisogno di stampare la carta moneta perché qualcuno in un computer fa crediti e muove miliardi e miliardi di euro sul nulla. Questo è il fallimento del nulla. L'Europa sta fallendo sul nulla. Prima è toccato alla Grecia adesso la catastrofe è preparata per l'Italia e sta crollando tutto il supporto dell'economia dell'Unione Europea perché adesso sta sfuggendo di mano agli umani questo diabolico rettiliano meccanismo. Perciò, per sostenere l'inflazione la BCE negli ultimi tre anni ha immesso moneta nel mercato attraverso l'acquisto di titoli di Stato dei paesi dell'Eurozone. Si stampano i soldi e si comprano i titoli di Stato. A metà giugno la BCE ha annunciato che da ottobre il QE si ridurrà e gli acquisti dei titoli passeranno da 30 a 15 miliardi. Perciò diminueranno gli acquisti. Diminuendo la richiesta si abbassa il valore dei titoli di Stato. Nel 2019 il programma terminerà dopo che hanno strozzato tutto e tutti. perché è esploso il debito pubblico italiano con la BCE? Nel 2009 il saldo dell'Italia è addirittura positivo per 54,8 miliardi. Si riduce ancora questo saldo positivo a 3,4 miliardi nel 2010 e nel 2012 è sceso fino a meno non inattivo meno 255 miliardi di euro. Dal 2014 meno 208 miliardi quando si attiva il QE la passività è aumentata fino a raggiungere 490 miliardi. Vi state rendendo conto di tutto questo? Non lo so. Attraverso quella la BCE ha prestato liquidità alle banche centrali nazionali per acquistare titoli di Stato dei rispettivi paesi. Avete capito? Perciò ti do Banca d'Italia io ti do i soldi e tu mi devi dare i titoli di Stato. È stata la Banca d'Italia quindi ad acquistare direttamente BTP dalle banche commerciali che poi i BTP li emettono le banche commerciali. Perciò un giro infernale per far fallire le economie nazionali. Adesso nel mirino c'è l'Italia e tutto sta saltando perché qui saltano tutti gli equilibri come se il controllo di tutta questa macchina infernale ci sta sfuggendo di mano. Questo meccanismo ha consentito il trasferimento di attivi verso sistemi bancari più sicuri. Così se noi ci troviamo in passivo raddoppiato da anni la Germania può vantare un saldo attivo verso il target 2 di 923 miliardi di euro. Ecco perché è il discorso dello spread puntato sulla Germania che può distruggere l'economia dell'Italia e in modo particolare nel mirino c'è l'Italia. La Germania invece ha un piano B. Nel gennaio 2017 il presidente della BCE Mario Draghi avvertì che chi avesse voluto uscire dall'euro avrebbe prima dovuto saldare i conti nei confronti del target 2. Cioè praticamente dare tutti questi soldi che l'Italia non è in condizione di dare o svendere o svendere parte degli immobili del capitale reale dell'Italia così come le migliori aziende società statali a svenderli a privatizzare tutto affinché se li comprano i paperoni dei paperoni di tutto il mondo. E in modo particolare la Germania come si è comprata mezza Grecia e se l'è comprata a poco da Naro fratelli cari. Il nostro bravo Mario Draghi che è italiano apparentemente boh chissà di che razza è Paolo Savona ora stiamo parlando qui di situazioni odierne ministro italiano degli affari europei aveva scritto nel piano D per lasciare la moneta unica e anche per questo il presidente Mattarella ha imposto il veto sulla sua nomina. Avete capito che giochi? Avete capito chi è pro e contro lo strozzinaggio dell'Italia? Avete capito a chi è stata venduta agli umani italiani lecchini dei rettiniani a chi hanno venduto l'Italia ma voi ancora vota Antonio vota Antonio vota Antonio la necessità di un piano B è però condivisa da illustri economisti tedeschi alcuni vicini alla cancelliera Merkel lo studio di Christophe Wattelapeska e Karl pubblicato a marzo è esplicito bisogna prepararsi all'eventualità pensando a come far valere i propri crediti dalla Germania si intende ovviamente cioè dobbiamo recuperare questi crediti abbiamo costruito tutto il debito pubblico adesso tutte le nazioni e qui ci troviamo in capo sempre la Germania gli aschenaziti escono sempre allo scoperto e perciò adesso vogliamo questo questo credito che abbiamo costruito dal nulla ora è importante comprendere che stiamo siamo arrivati alla alla fine fratelli cari e che molte cose nella realtà non le abbiamo capite ci siamo sempre disinteressati eravamo 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 diciamo io direi eravate perché io non sono stato mai così tanto interessato né alle religioni e tanto meno alla partita di calcio come lo sono in molti fratelli cari adesso tutto sta per crollare tutto sta per crollare il signore sta tornando fratelli cari io chiudo questo video nella speranza che qualcuno che qualcuno cominci ad aprire gli occhi perché fratelli cari è la fine è la fine non si potrà comprare e vendere è la fine e adesso stanno stanno preparando col 5G questa rete neurale per collegare tutto il globo tutta questa palla di vetro che è sotto il primo cielo ma il signore ha tutto sotto controllo io adesso vi saluto un caro abbraccio e chissà se siete riusciti a leggere perché la maggior parte di voi sono così disinteressati capisco che sono meccanismi difficili da capire proprio per questo sono pochi che riescono a capire cosa sta avvenendo fratelli cari è la fine quello che sta avvenendo è quello che avevano già da tempo preparato e lo stanno portando a compimento fratelli cari io adesso vi saluto vi abbraccio statevi bene esaminate ogni cosa ne avevate sentito parlare di questo tippe tappe e toppi sì io ne avevo sentito parlare ma tutti i dettagli non li sapevo il signore anche benedica questo fratello che gli ha messo il signore nel cuore perché è anche un esperto di questi argomenti di trovare questa documentazione che spiega con tanta chiarezza gli inganni tutto sta crollando fratelli cari siamo alla fine stanno per finire le pseudo vacche grasse fratelli cari e stiamo per entrare nelle vacche magre i sette anni della grande tribolazione fratelli cari sarà qualcosa sarà una tribolazione che già mai ce ne è stata e già mai ce ne sarà perché al tempo dell'ultima guerra la maggior parte delle persone erano contadine e si curavano avevano l'orticello fratelli cari ma adesso non si potrà comprare e vendere chiuderanno tutti i negozi fratelli cari rimarranno soltanto le grosse catene di supermercati e fratelli cari ci vorrà per forza il microchip per poter avere accesso a questa economia di ladri hanno reso tutta l'umanità schiava fratelli cari e non ce ne siamo accorti perché lo hanno fatto progressivamente e con la mente del serpente che era il più astuto di tutti gli animali e fratelli cari i rettiliani i draghi i dragoni stanno per prendere possesso del mondo perché si reputano i padroni del mondo è già finito il il giubileo ebraico fratelli cari e adesso si sta scatenando una guerra che voi non immaginate neanche fratelli cari tutta l'economia partendo dall'Europa sta crollando e deve crollare quelli che avranno accesso al cibo e a bene materiale saranno soltanto quelli che adoreranno la bestia e prenderanno il suo marchio o il numero del suo nome fratelli cari meditate se riuscite a pensare e se avete voglia di conoscere la verità questo programma sta tutto per saltare l'economia europea a partire da quella italiana sta per saltare nei prossimi mesi no non lo so se è dopo prima Natale no non lo so questo ma fratelli cari sappiate che quel giorno è più vicino di quanto possiate pensare hanno lobotomizzato le menti tutti i religiosi sono d'accordo c'è un piano diabolico luciferino per distruggere l'umanità e infatti le fantomatiche tavole degli illuminati di Guida Stone il primo comandamento è tieni la popolazione mondiale al di sotto dei 500 milioni e sulla faccia della terra ci sono 7 miliardi e 500 milioni qualcosa in più di abitanti ma voi i vostri interessi sono ad andare dietro i pezzi di legno i vostri interessi sono ad andare a culto alla messa alla messa nera dal culto occulto e vi sentite gratificati da questo vi hanno modificato il cervello ci l'hanno modificato ma per grazia di Dio il Signore a qualcuno gli ha formattato il cervello e riprogrammato e per grazia di Dio mi ha dato la possibilità e l'accesso a conoscere i misteri di Dio e a dirvi ravvedetevi cercate il regno di Dio cercate la sua giustizia e il Signore vi scamperà i primi tre anni e mezzo se volete continuare a dormire passerete i primi tre anni e mezzo della grande tribolazione che sarà una tribolazione che già mai ce n'è stata sulla faccia della terra e già mai ce ne sarà ma chi si sveglia prima andrà nel deserto per essere cibato dal Signore Cristo Gesù un tempo dei tempi la metà di un tempo cioè i primi tre anni e mezzo fratello sorella se non vuoi vedere e assistere e passare la grande tribolazione ravvediti oggi perché il tempo della grazia si sta chiudendo il Signore ci benedica e come vi dico sempre alla prossima se la prossima ci sarà il Signore non viene prima ricordatevi tutto sta crollando non è la parola del simpatico vecchietto ma è la parola che il Signore mi fa predicare da tempo vedrete vedrete dove sta la verità vedrete chi vi ha parlato nel nome del Signore Cristo Gesù e vedrete gli impostori che vi hanno sfruttato questi maledetti da Dio ingannato con la finanza vi hanno ci hanno spogliati dei beni più comuni hanno fatto falire imprese hanno portato padri di famiglia a suicidarsi e voi ancora pensate che Di Maio che Salvini vi salverà sono tutti la stessa pasta sono la cacca sono lo sterco di Satana che vuole conquistare tutta l'umanità e fare in modo che tutti adorino l'immagine della bestia fratelli cari un abbraccio Dio ci benedica e ci apra gli occhi quelli spirituali di Satana di Satana dottorino